i muffin che bontà e poi con lo stampo a tulipano si può scegliere una decorazione e renderli belli carini anche voi li avete usati gli stampi a tulipano non è vero però come me molti di voi probabilmente hanno avuto difficoltà a usarli perché è vero sono belli ma la carta è molto sottile quindi come risolvere il problema a volte ne uso diversi due o tre insieme così però va a sprecare la carta del tulipano che comunque non se la fanno pagare poco allora come soddisfare questo bisogno di non far crollare il muffin durante la cottura perché ovviamente l'impasto va ad allargare e far cedere la struttura così delicata dello stampo di carta io ho un trucchetto che ora condivido con voi per avere il muffin bello gonfio però senza farlo cadere i muffin rovesciati sono buoni sono belli ma meglio quelli normali ed ecco la soluzione ho messo uno stampo in silicone sotto per reggere la base in modo che in cottura non va a cadere quindi prendete un muffin sicuramente ce li avete anche vecchi a casa che potete utilizzare come base dove mettere lo stampo di carta lo riempite ed ecco qua è bello gonfio e ha retto la sua forma perfetto in questo modo evitate che la struttura si vada a rompere e il muffin esce così come lo desiderate questi sono muffin vegani alle mele che se vi piacciono potete trovare la ricetta ovviamente sul mio blog questo è un trucchetto che ho voluto condividere con voi spero vi possa essere utile e ci vediamo alla prossima ciao ciao